I maestri spirituali ci insegnano che l'essere umano crea, percepisce la realtà in cui vive e da cui è circondato e proprio la creazione e percezione delle forme pensiero è una delle modalità attraverso le quali tale capacità si realizza. Anche senza esserne consapevoli, tutti noi esseri umani, in quanto dotati di facoltà di pensiero e volontà, contribuiamo in ogni istante a costituire e rafforzare le manifestazioni della realtà che rientrano nella definizione di forma pensiero. Inversamente, da essa attingiamo e riceviamo ispirazioni, impulsi e desideri che hanno come effetto le conseguenti azioni che caratterizzano la nostra vita. In buona sostanza, le forme pensiero improntate dall'uomo, all'ora volta, improntano di sé la vita dell'uomo. Nella categoria delle forme pensiero rientrano ad esempio tutte le espressioni di culto e credenze religiose. La fede, ovvero il credere fortemente, può dar vita a tutte quelle manifestazioni straordinarie quali le apparizioni e le visioni di entità superiori che donano messaggi e da cui scaturiscono i cosiddetti miracoli, generati proprio dalla fede, ossia dalla forza pensiero di chi ne fruisce, sostenuta ed amplificata da figure di madonne, santi e simili, le quali sono altrettanti volti dell'unica divinità. Molte volte queste manifestazioni particolari avvengono semplicemente perché soggetti di grande sensibilità sono in grado, attraverso i sensi sottili, di captare le energie attivate da moltitudini defedeli. Generano forme pensiero le preghiere costanti e ripetute nel tempo da masse di credenti, le quali confluiscono in un grande fiume energetico come gocce e orrivoli che vanno man mano ad ampliarne la portata. E basterà metaforicamente intingere un dito in quell'acqua per captarne le energie così accumulatesi.